Il Vecchio e la Bambina, un film che promuove il nostro territorio, cosa significa per il Polesine? Avere un film anche di questa caratura che promuove il nostro territorio significa finalmente vedere il nostro Polesine non solo sul grande schermo ma finalmente considerato come un territorio di eccellenze che quindi merita anche di essere protagonista dell'arte a tutto tondo. Ho sentito peraltro il regista, avremo poi una discussione un pochino più fitta più avanti, mi ha fatto questa promessa, lui è un entusiasta ed è assolutamente felice peraltro che la regione Veneto stia supportando in tutto e per tutto questa sua opera e sono sicura che potremo fare grandi cose. Il Vecchio e la Bambina, un film promosso e sostenuto da Gal Adige, cosa ci puoi raccontare su questo? Cosa significa per il Polesine un film di questa caratura sul grande schermo? Sì, con questo progetto abbiamo voluto utilizzare un prodotto un po' innovativo rispetto alle solite brochure eccetera, è nato da un progetto di cooperazione con altri Gal del Veneto quindi viene promosso il territorio polesano di Rovigo ma anche altri territori del Veneto e sta avendo veramente un gran successo, siamo molto contenti perché dagli spettatori che ci sono stati a chi ha scaricato il film anche su Amazon Prime eccetera, insomma i numeri iniziano ad essere importanti. Grazie